Smottamenti in tre punti in mattinata sulla 36 a San Giacomo Filippo e Montespluga, una valle isolata. Si lavora alla cremente ripristino del transito. Somaggia, Casenda e Giumello di Samollaco sono andate sott'acqua. Il Lido di Novate Mezzola è invaso dai detriti. Chiosco, ombrelloni, lettini, letteralmente sommersi. Lo straripamento del torrente Lesina investe la bassa valle. Tra Piantedo, Delebio e Dandalo-Valtellino, acqua, fango e distruzione. I maggiori danni all'agricoltura. Il settore trasporti pubblici richiede garanzie, risorse per infrastrutture, mezzi e salvaguardia occupazionale. Domani proclamate quattro ore di sciopero. Buonasera e bentrovati a consueto appuntamento con l'informazione di Telesondrio News. La cronaca in apertura. Valle Spluga isolata dalle 10 di questa mattina a causa di più smottamenti avvenuti lungo la statale 36 nel territorio del comune di San Giacomo Filippo. I tecnici ed operatori ANA sono al lavoro per liberare la carrozzabile dai massi nella speranza di riuscire ad aprire il tracciato al transito già inserato. Opzione però non scontata. La provincia si è già attivata per chiedere alla Regione Lombardia lo stato di emergenza. Vediamo i dettagli nel servizio. Una notte di tuoni e lampi seguiti dallo scrociare e dalla pioggia battente, fenomeni rispetto ai quali nessuno è rimasto indifferente, ma il tempo che è imperversato su tutta la provincia di Sondrio, con particolare insistenza in Valle Spluga, bassa Val Chiavenna, bassa Valtellina ed Alto Lario. E le conseguenze non si sono fatte attendere. Fra le 9 e le 10 di stamane è stata emergenza, con vigili del fuoco, protezione civile, tecnici e geologi di comuni e comunità montane impegnati su più fronti, in particolare a San Giacomo Filippo e Campodolcino, a Somaggio e Casenda di Samolaco, a Lido di Novate Mezzola, a Piantedo e a Delebio. Particolarmente pesante è la situazione in Valle Spluga, dove il primo smottamento si è verificato fra Madesimo e Monte Spluga sulla 36, seguito dall'esondazione del torrente Liro a Galivaggio, riversatosi sulla bretella costruita poco più di un anno fa per aggirare il corpo frana a ridosso del santuario, bretella divorata dall'acqua. Quindi più sotto, altre tre frane si sono riversate sulla statale 36 a San Giacomo Filippo, di cui la più insidiosa, poco sopra l'abitato di Bette. Impossibile quindi raggiungere la Valle Spluga da Chiavenna e al pari dal Passo Spluga, pure chiuso per smottamenti e desondazioni imponenti in zona Splügen. Nessun danno alle persone, ma l'allerta in Valle Massimo, come conferma Enrica Guanella, sindaco di Campodolcino, che è stato possibile raggiungere al telefono questa mattina. Sindaco, com'è la situazione a Campodolcino in questo momento? C'è stata una nottata di intense piogge che ha provocato numerosi smottamenti sul nostro territorio. Precisamente? Piccoli smottamenti sulla strada di Francescio, con un po' di allagamenti perché sono uscite delle vallette, un piccolo smottamento sulla strada per Starleggia, abbiamo la provinciale per Madesimo, dove anche lì è stata interrotta a causa di uno smottamento, non di grossa entità, però ovviamente bisogna ripristinare la viabilità. In che punto? In che punto, sindaco? Sopra la diga di Isolan. Sopra la diga di Isolan, sì. E al momento siamo temporaneamente isolati perché sotto San Giacomo è sceso una piccola franetta, ecco. Sulla statale? Sì, sulla statale. Quindi anche Francescio non è raggiungibile neanche Starleggia in questo momento? No, no, Francescio è raggiungibile, Starleggia al momento no, però a breve ripristineremo la viabilità, ecco stanno già salendo dei mezzi per ripulire i sassi caduti, ecco abbiamo il livello dell'acqua che è molto alto, il livello dei fiumi che sono molto alti, quindi stiamo monitorando il tutto. Non ci sono danni a persone e questa è la cosa più importante. Certo, avete anche allagamenti, degli scantinati, cantine allagate, garage allagate, ovviamente ha piovuto tantissimo, quindi fortunatamente noi abbiamo le dighe che proteggono il territorio e non abbiamo mai avuto grandi danni, come per esempio nell'87, il nostro territorio è stato graziato dalla presenza delle dighe, però ovviamente abbiamo un territorio che presenta numerosi reticoli minori e con tutta quest'acqua ci sono state parecchie esondazioni. Particolari disagi dovuti alla chiusura della statale, ecco so che ci sono forse alcuni pazienti realizzati oppure non lo so. Ma adesso sì, ma fortunatamente una ragazza che deve partorire è già Chiavenna, è scesa questa mattina e quindi non ci sono altre donne gravide che sono in attesa. Due pazienti in dialisi di Madesimo e Campodolcino non hanno potuto fare rientro alle loro abitazioni e sono stati ospitati, uno da parenti, uno trattenuto in ospedale, ma per il resto al momento la situazione è sotto controllo. Enorme la portata di tutti i fiumi, spaventosa la molle d'acqua della cascata dell'acquafragia di Borgo Nuovo di Piuro. Fino al primo pomeriggio chiuso anche il passo del Maloia per uno smottamento verificatosi a stampa, piccolo smottamento anche a Prosto di Piuro, poco sopra la chiesa di Santa Maria. Ed è stata pioggia torrenziale ed inondazioni anche nella bassa Valchiavenna con epicentro Samolaco e Novate Mezzola. Lido completamente invaso da acqua e materiale di riporto, allagata la statale 36 a Somaggia, è chiusa al traffico dalle 10 di oggi alle 15 con deviazione obbligatoria sulla Trivulzia. Nel tardo pomeriggio chiusa anche quest'ultima per vasti allagamenti al giumello. Anche Casenda sott'acqua, il servizio. Questa mattina ci siamo svegliati con questa bella sorpresa. Praticamente niente, c'è l'acqua a altezza 80 centimetri, 90 centimetri, tutto il chiosco è praticamente allagato e al momento dobbiamo ancora fare la conta dei danni ma sicuramente è una cifra ingente. Si è risvegliato così, travolto dall'acqua e dal materiale di riporto, questa mattina il lido di Novate Mezzola. La spiaggia sul lago invasa dai detriti, scene mai viste, almeno memoria Duomo. Così non l'ho mai visto. Probabilmente anche una notte intensa di pioggia che c'è stata stanotte e anche stamattina e adesso il danno è abbastanza notevole anche per il lido che si trovano tutta la legna e non so se ce la faranno pulire in stagione. Mai visto una cosa del genere. Stamattina ho ricevuto una chiamata che era allagato il lido ma una cosa così mai mi aspettavo potesse succedere, potesse essere. Non avevo mai visto una cosa così. Gli argini erano sporchissimi, è travolto tutto e tutto materiale qui da vedere dov'è. È successo circa tre anni fa un problema simile ma molto molto minore. Infatti l'acqua è arrivata pochi metri sopra il bagnasciuga normale ma non ha creato tutti questi danni come quest'anno. Ai gerenti la struttura non è rimasto che rimboccarsi le maniche ed attivarsi per cercare di salvare il salvabile e liberare dai tronchi e dai rami gli edifici. Triste vedere gli ombrelloni e i lettini sommersi dall'acqua limacciosa. Anche se gli interessati garantiscono che verrà fatto tutto il possibile per ripristinare lo status quante ed assicurare l'apertura della struttura per la stagione estiva. Pochi chilometri più sopra l'altezza di Somaggia di Samola con una seconda esondazione, questa volta del torrente Pissarotta, ha allagato la statale 36, obbligando la chiusura del tracciato da Novate Mezzola a Chiavenna da poco dopo le 10 di stamane fino alle 15, con deviazione obbligatoria sulla provinciale Trivulzia. Per esplodere poi su un altro fronte, quello della frazione Giumello, progressivamente invasa dall'acqua, tant'è che nel tardo pomeriggio di oggi, poco dopo le 17, la strada ha dovuto essere chiusa al traffico. Sotto assedio anche casenda di Samolaco con vaste aree a prato e coltivi allagate. Per tutto il giorno il sindaco del posto Michele Rossi e tecnici comunali, unitamente a vicili del fuoco e protezione civile, sono stati impegnati in sopralluoghi a presidio del territorio ed in interventi tese a ripristino dei luoghi e a garanzia della sicurezza degli abitati. Ed è drammaticamente critica la situazione in bassa Valtellina, tra i comuni di Delebio, Piantedo e Andalo Valtellino. Qui il torrente Lesina è esondato investendo le strade e riversando i propri liquami fangosi nei piani bassi delle abitazioni. Distrutte gran parte delle colture, interrotte alcune vie di comunicazione. Vediamo il servizio di Giuliano Padroni. È una notte insonne quella che ha accompagnato gli abitanti della bassa Valtellina nella zona compresa tra i comuni di Delebio, Piantedo ed Andalo Valtellino. Qui, da 1.30 e fino alle 9 di questa mattina, non un solo attimo di tregua per quello che già viene annoverato come l'evento alluvionale più violento di sempre e secondo solamente a quello del 1911. Il bollettino che fortunatamente non riporta di vittime o feriti tra gli abitanti della zona è davvero drammatico e le immagini parlano da sole. In località Tavani l'esondazione del torrente Lesina non ha risparmiato le abitazioni, inondando letteralmente i piani bassi delle case. Le acque dello stesso torrente, straripate nella parte più bassa del paese di Delebio, hanno altresì creato degli innalzamenti talmente alti del livello fluviale, tali da lambire il ponte sulla ex strada statale 38 e quello che si staglia sopra i binari della ferrovia. Naturalmente interrotti lungo questo tratto i passaggi al traffico automobilistico e ferroviario. Trasformata in palude l'intera area industriale dove già si contano i danni di un evento straordinario che ha oltremodo danneggiato, rovinando in maniera irreparabile, praticamente tutte le colture del territorio, soprattutto quelle di mais. Smottamenti vengono registrati in Vallesina. Il terrore tangibile negli occhi di tutti gli abitanti di questa zona è che i detriti creati dalle frane possano andare ad intasare i canali affluenti al torrente, provocando così ulteriori stradipamenti che andrebbero a riversarsi, come già accaduto, proprio nei comuni bagnati dalle loro acque. Ma probabilmente è venuto giù la frano, un po' in su, lungo il torrente, ha fatto una diga e poi è esplosa, no? Non si conto perché l'acqua si era intasato lì di legni e probabilmente era pericolo che portava il ponte giù verso Radda. A Piantedo la parte bassa del territorio comunale è di fatto ridotta ad un acquitrino. Qui il tratto stradale della SS38 è il ricolmo di pozze che mettono in serio rischio il passaggio degli automezzi e l'incolumità degli automobilisti. L'invito è naturalmente a prestare la massima attenzione durante la guida. Incessante l'attività dei vigili del fuoco assieme a protezione civile, carabinieri, polizia, forestali e tanti, tanti volontari. Tra questi qualcuno trova la volontà di parlare lamentando una scarsa manutenzione lungo gli argini del torrente Lesina. La manutenzione è fondamentale. Il costo della Lesina era diventato un bosco. Alla prima piena gli alberi vengono giù, si appoggiano al ponte dell'Esina e al ponte della ferrovia la portano via. Queste sono delle cose talmente elementari che chiunque... Infatti il vecchio sindaco ha fatto disboscare purtroppo non fino in cima. Mentre quel che è stato fatto su intorrazza. È stata una cosa criminale. Hanno fatto quella specie di vallo atlantico che si viene chiuso da tre tronchi, si forma un lago fino al briglione che quando esplode arriva fino alla chiesa. Ed è stata una giornata di passione sia sulle strade della nostra provincia sia sulla rete ferroviaria. I principali problemi, a parte i tratti chiusi lungo la 36 e su alcune provinciali di cui vi abbiamo dato conto nei servizi, si sono registrati sul nuovo tratto della statale 38 e al trivio di Fuentes, dove possenti pozzanghere hanno rischiato di mandare in titola viabilità. Intorno a mezzogiorno poi collegamenti interrotti sulla ferrovia fra le stazioni di Dervio e di Delebio, teatro di esondazioni dei rispettivi torrenti capaci di creare forti disagi anche lungo la strada ferrata. Inevitabile la cancellazione di parecchi treni lungo la Milano-Tirano e ritorno. Dal pomeriggio si è provveduto ad inserire autobus sostitutivi, tuttavia l'accesso alla Valtellina e alla Valchiavenna resta difficoltoso per chi si serve dei mezzi pubblici. Gli aggiornamenti su trenord.it, sezione aggiornamento in tempo reale. Ricordiamo infine che si circola regolarmente sulla Super 36 in entrambe le direzioni, mentre è chiusa al traffico sempre a Dervio la provinciale 72 del Lago. Quanto mai in tema con la cronaca odierna il focus sull'adattamento locale ai cambiamenti climatici nelle Alpi che si è avuto ieri a Morbegno, grazie al convegno organizzato dalla Convenzione delle Alpi nel contesto delle iniziative legate a Morbegno, città alpina 2019. Prendere atto delle potenzialità ambientali del nostro territorio e contrastare gli impatti dei cambiamenti climatici, l'obiettivo. Vediamo il servizio di Simone Belletti. Un'ulteriore occasione per focalizzare l'attenzione sui cambiamenti climatici e sulla loro mitigazione. Su questo argomento si è incentrato il convegno sull'adattamento locale ai cambiamenti climatici, che ha avuto luogo ieri all'auditorium di Sant'Antonio di Morbegno. Un'iniziativa collocata all'interno della Convenzione delle Alpi. L'adattamento è stato uno dei temi principali del seminario. L'adattamento è un fenomeno tipicamente locale perché parte da chi governa e vive il territorio nelle comunità che risiedono localmente. Quindi coinvolge i comuni, coinvolge accanto agli amministratori comunali tutti gli attori da punto di vista economico e sociale che hanno degli interessi da tutelare e hanno da intraprendere azioni per la protezione del loro ambiente, della loro economia, del loro territorio e della salute. Qui assisteremo sempre di più a dei fenomeni che colpiranno il territorio in modo violento e puntuale. Quindi è giusto che i comuni comincino a pensare come attrezzarsi per far fronte a questi fenomeni. L'Italia è tra i paesi con il maggior numero di attori non statali coinvolti in azioni climatiche. Il progetto della Carta di Budoia, sottoscritta da alcuni comuni italiani per contrastare gli impatti del clima sul territorio, ha due obiettivi. Il primo quello di sviluppare delle politiche virtuose e coerenti con gli obiettivi prefissati, come ridurre l'inquinamento. Il secondo di non rimanere passivi quando eventi come tempeste, siccità, valanghe, alluvioni o frane colpiscono il territorio. Penso che il Comune di Morvegno abbia tutti i titoli per poter non tanto cominciare a partecipare a questa rete, ma inserirsi in una rete rispetto a cui gli argomenti hanno cominciato ad essere affrontati tempo addietro con tutta una serie di opere che sono state realizzate. Un'iniziativa forte di tre fasi. La valutazione dello status quo delle attività in corso sull'adattamento ai cambiamenti climatici nelle aree pilota. L'analisi della coerenza delle azioni avviate con gli obiettivi attesi dalle attuali politiche regionali, nazionali e sovranazionali. La selezione di azioni concrete ed eventuali modifiche da portare agli strumenti di pianificazione territoriale esistenti. Fondamentale risulterà la collaborazione tra amministrazioni, cittadini, professionisti, imprese, gruppi di interesse e ricercatori coinvolti. Obiettivo finale del progetto è quello di sviluppare una metodologia standardizzata da applicare in diverse regioni pilota nelle Alpi italiane. Si mira a migliorare le capacità decisionali delle amministrazioni regionali e locali in tema di adattamento e gestione delle sfide poste dai cambiamenti climatici ai territori montani. Restiamo ancora in argomento maltempo perché è vera e propria emergenza anche a Dervio dove a causa del superamento delle quote massime dell'invaso della diga di Pagnona la prefettura ha disposto il piano di evacuazione di 800 persone, 400 delle quali hanno già abbandonato le loro case. Allo stesso tempo è stato aperto il centro coordinamento soccorsi per la gestione dell'emergenza, segnalati allagamenti diffusi anche a Premana, Pagnona e Prima Luna dove sono esondati tre torrenti di Valle Molinara, Valle Noci e Valle del Fus. In alcuni comuni sono state evacuate anche delle persone. A supporto dei colleghi della Croce Rossa del Posto sono giunti in giornata anche i soccorritori del comitato locale di Morbegno impegnati nella gestione dei soccorsi alla popolazione. Uno stato di grave incertezza circa le risorse da destinare al settore del trasporto pubblico locale e la mancanza di garanzie circa la clausola di salvaguardia occupazionale alla base dello sciopero dei trasporti pubblici indetto per domani in tutta la regione e nella nostra provincia. Ne parliamo nel prossimo servizio. Giornata di scioperi nel settore trasporti, quella di domani 13 giugno lungo tutta la regione Lombardia e la provincia di Sondrio non sta a guardare. Qui la finestra oraria dedicata all'agitazione sarà quella compresa tra le 16.30 e le 20.30. A preoccupare i sindacati si legge nel comunicato redatto da Filt CGL, Filt CISL e Uiltrasporti la condizione di grave incertezza circa le risorse da destinare al settore del trasporto pubblico locale e la mancanza di garanzie circa la clausola di salvaguardia occupazionale. Due miliardi congelati nella finanziaria del 2018, 300 milioni erano destinati al TPL, 52 dei quali per la regione Lombardia. Questo ci preoccupa perché tagliare in un momento che c'è più bisogno di mobilità è una cosa sbagliata. Noi siamo fortemente preoccupati, abbiamo chiesto anche un incontro a livello regionale all'assessore competente Terzi, il quale non ci ha risposto. Noi crediamo che bisogna urgentemente mettere giù un tavolo perché almeno si faccia chiarezza su questa situazione. Per il settore trasporti pubblici, gommati e ferroviari, una piega sempre aperta, quella in provincia di Sondrio, già difficile da coprire non bastasse la non facile accessibilità ad alcuni comuni e contro la quale i sindacati lamentano eccessivi tagli e poco ascolto da parte dei vertici regionali. Noi continuiamo a lamentarci, adesso siamo quasi anche stanchi perché qualcuno fa dei proclami millantando treni nuovi dicendo che ci sono migliorate le pulizie. Invece tutto non è assolutamente vero anche perché basta viaggiare in treno e quando va bene ci sono sempre 10-20 se non mezz'ora di ritardo treni soppressi. Non parliamo delle pulizie perché anche l'altro giorno abbiamo avuto delle segnalazioni di persone che sono salite a Milano con un panino in mano e non sono riuscite a mangiare il panino dallo sporco che c'era sui treni. Continuando a fare appalti a ribasso non può migliorare il servizio, questo è poco ma sicuro. E siamo nel profondo nord, con tutto rispetto per il sud però il nostro treno va a incrociare il treno del Bernina che è patrimonio dell'umanità ma vogliamo darci da fare davvero e vogliamo parlare di turismo, di olimpiadi e abbiamo questi mezzi, questi treni? Insomma ne dovremmo vergognarci. Ed ora focus sulla distribuzione della corrispondenza, servizio che non sempre funziona alla perfezione anche in provincia di Sondrio. A seguito dell'incontro tenuto in regione Lombardia con i rappresentanti lombardi di poste italiane Massimo Sertori, assessore regionale alla montagna, comunica che la situazione in provincia per quanto riguarda la corrispondenza ordinaria è in miglioramento. I vertici della zieda, ha spiegato Sertori, hanno confermato che sono in via di risoluzione i problemi relativi a ritardi e consegna della posta in giacenza, grazie alle azioni correttive intraprese e al mantenimento dell'estensione dell'orario di consegna fino alle 19. Inoltre poste italiane S.P.A. ha confermato la volontà di reperire nuovo personale da assumere a tempo determinato che risiede sul territorio provinciale per garantire il servizio e potenziare le consegne degli acquisti online. Ed ora ci spostiamo a Chiavenna. Ha stregato il pubblico locale il saggio di fine anno dell'associazione sportiva direttantistica Didi Dance School, andato in scena sabato e domenica scorsi al teatro della Società Operaia di Chiavenna. 120 danzatrici in scena a rappresentare 19 figure di donne che hanno fatto la storia. Uno spettacolo privo di sbavature. Vediamo il servizio. Ha tenuto la platea incollata alle sedie del teatro della Società Democratica Operaia di Chiavenna per quasi due ore e mezza, sabato e domenica scorsi, lo spettacolo Donne in cerca di guai, saggio di fine anno della Didi Dance School, associazione sportiva dilettantistica che dal 2002 instilla il seme della danza in generazioni di bambini, giovani, adulti, valchiavennaschi e non solo. 120 le comparse dello spettacolo, un mix di recitazioni, danza per la regia e la coreografia di Denise Lucchinetti, fondatrice di Didi Dance School e della collega Natasha Mordovkina, che hanno saputo dar corpo e vita a 19 donne che hanno fatto la storia nei più svariati ambiti. Rappresentazioni tratte dal volume Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli, edito da Mondadori. Abbiamo cercato di toccare proprio settori differenti, sia dalla scienza, l'arte, la scrittura, piuttosto che... forse non abbiamo toccato la politica, adesso che ci penso, ma il mondo anche dello sport e andando proprio a scavare nella storia di queste donne effettivamente sono state capaci di buttare giù un sacco di pregiudizi sulle capacità a livello sia fisico e soprattutto intellettuali. Una più bella dell'altra le rappresentazioni, deliziosi coniglietti e le topine portate sul palco dalle bimbe e dai bimbi del primo e terzo grado di corso, ad inscenare il quadretto celebrativo della scrittrice e illustratrice inglese dell'Ottocento Beatrix Potter. E poi ancora struggente la raffigurazione di Maria, la Madonna, impersonata da Rianna Bianchini, di Sirta di Forcola, autentica promessa della danza, nata in casa di D-Dance e che dal prossimo anno entrerà a far parte di un gruppo veneto di alta formazione in danza contemporanea che le permetterà di affrontare le audizioni per le più prestigiose accademie europee e non è la prima stella del ballo a nascere a Chiavenna. Ne abbiamo una assolutamente da ricordare che è Camilla, Camilla Cason, che è una danzatrice presso l'Opera di Metz in Francia, che abbiamo avuto con noi diversi anni fa, adesso lei si è trasferita, vive là e ha la sua carriera proprio di danzatrice in questa bellissima compagnia. Soddisfazioni che nascono da un lavoro puntuale, quotidiano, con bambine, ragazze, adolescenti, giovani, adulte, soprattutto di sesso femminile, perché la diversità di genere è ancora poco sviluppata in questo settore, che si è riversato tutto nel saggio di fine anno, un mix di danza classica, moderna, contemporanea, hip hop, acrobatica, da lasciare senza fiato, come in Cleopatra, capace in un attimo di trasportare gli spettatori in un'altra dimensione. Ed ora lo sport. Si è tenuta domenica scorsa a Gazzaniga, in provincia di Bergamo, la selezione per i campionati europei di corse in montagna di Zermatt, per la categoria Signores Donne. Corsa organizzata dalla Recastello Radici Group, su un tracciato di 10 chilometri e 1.060 metri di dislivello. Prova maiuscola di Elisa Sortini, atletica alta valtellina, che ha trionfato con il tempo di un'ora 0 primi 40 secondi, distaccando di 51 secondi la campionessa italiana sulle lunghe distanze Erika Gelfi, della podistica Valle Varaita. Al traguardo Sortini ha manifestato la sua gioia. Vestire la maglia azzurra per questi europei 2019 era il mio obiettivo. Ho dovuto cambiare un po' i miei programmi proprio nel momento clou della stagione per un problema al ginocchio, ma alla fine, alla gara di selezione, sono riuscita a confermarmi e ora non vedo l'ora di concentrarmi sull'europeo di Zermatt. Da segnalare l'ottavo posto di Elisa Compagnoni, atletica alta valtellina. Ed era questa l'ultima notizia del nostro giornale. Vi rimando alle prossime edizioni. Vi ricordo che ci potete rivedere sul sito www.radiotsn.tv e sulle pagine social Facebook e YouTube della nostra emittente. Grazie per l'attenzione. Buonasera. Al quadrifoglio, a Sondrio, il punto di riferimento per l'abbigliamento classico e casual maschile. Al quadrifoglio potrai trovare una vasta scelta di abiti, camiceria, maglieria, calzature e accessori uomo delle migliori marche. Al quadrifoglio, l'abbigliamento maschile di qualità. Al prezzo giusto. Ci trovi a Sondrio in via Caimi 72. Telefono 0342 51 49 71. Per te, donna, che cerchi nella moda uno stile davvero personale, c'è New Probabile Donna, la boutique di Sondrio in via Mazzini 15, dove puoi creare il tuo look al di fuori delle tendenze e correnti dilaganti. New Probabile Donna. D'anni è il punto di riferimento per chi ama una moda semplice con un tocco di glamour. Un'eleganza decisamente sofisticata, con la passione per la ricerca del dettaglio e della qualità. New Probabile Donna. Abbigliamento, borse, accessori e calzature. A Sondrio, in via Mazzini 15. Immaginari. L'idea che non avevi in testa. A Sondrio, in via Bonfadini 9 barra A, zona stazione. Orario continuato dalle 9 alle 19. Giovedì, aperto fino alle 21. Appuntamenti allo 0342 03 12 35.